L'iniziativa di oggi è un po' una novità per Exporo Vigo, c'è la possibilità di coinvolgere i ragazzi, i docenti delle scuole superiori della nostra provincia in un percorso di orientamento, di conoscenza da parte degli studenti delle migliori realtà produttive del nostro territorio e da parte delle realtà produttive, la conoscenza degli studenti. Il matching è fondamentale nell'ambito del mercato del lavoro e quindi Exporo Vigo si mette a disposizione insieme alle istituzioni che supportano questa iniziativa per cercare di migliorare, di rendere più snello, di aumentare la capacità conoscitiva all'interno del mondo del lavoro e soprattutto nell'ambito della transizione scuola-lavoro. Quindi questa è un'occasione che io mi auguro venga ripetuta anche nei prossimi anni perché sicuramente è un modo intelligente di provare a far conoscere ai ragazzi che cosa significa lavorare all'interno del proprio territorio, che cosa significa far conoscere alle imprese cos'è il capitale umano che è presente sul nostro territorio in maniera tale da valorizzarlo nel miglior modo possibile.